Le famiglie abruzzesi sono indebitate mediamente per un importo di circa 17.000 euro, numeri in crescita secondo FederConsumatori che vedono in cima la lista Pescara con quasi 3 miliardi di esposizione, chieti e a seguire Teramo. Aumentano i mutui per l'acquisto di una casa, prestiti personali e fidi sui conti correnti, un sovraindebitamento che per qualcuno non è più sostenibile e sono in molti a rivolgersi agli usurai o a fare gesti estremi contro la propria vita. La buona notizia è che esiste una legge, che in pochi conoscono, che permette la composizione delle crisi da indebitamento secondo le proprie disponibilità. Per questo FederConsumatori mette a disposizione nelle sue sedi in Abruzzo un legale competente a servizio dei cittadini con problemi debitori. Quelle del sovraindebitamento in particolare ci ha interessati perché qualcuno si è già rivolto da noi e oltre a quelle nozioni così un pochino generiche non eravamo in grado di dare informazioni più precise, soprattutto per quanto riguarda i costi. Questo aspetto purtroppo non è indifferente per il semplice motivo che si rivolge da noi e proprio perché non hanno più risorse da spendere altrove. Adesso abbiamo trovato appunto questa professionista, l'avvocato Anna Di Russo, che si è specializzata nell'argomento e quindi pensiamo di poter essere molto più utili. Io consiglio a tutti i cittadini che si trovano in una situazione debitoria di recarsi dai soggetti competenti per chiedere informazioni su questa legge, perché questa legge è poco conosciuta, però dà diverse possibilità di potersi liberare da una situazione debitoria pesante pagando quello che è nelle proprie possibilità. Quindi non bisogna rivolgersi agli usurai? No, assolutamente no, ma soprattutto non bisogna neanche disperare perché c'è questa possibilità e io sto verificando anche nell'ambito della mia professione che tante persone a cui lo propongo aprono gli occhi sbalorditi, non ne sanno nulla, perché poi abbiamo avuto veramente dei casi di persone che prese dalla disperazione hanno fatto il gesto estremo e invece questa legge è nata proprio con l'intento di eliminare questi casi limiti. Quindi io dico alle persone se vi trovate in una situazione debitoria chiedete, informatevi perché sicuramente si trova una strada.